grande attenzione a destato l'iniziativa promossa dalla OTA associazione operatori turistici agropoli anche grazie alla diretta andata in onda su Cilento Channel sui social già impazza l'hashtag come ha detto Raffaele la concretezza del candidato del movimento civico liberi e forti ha caratterizzato il primo confronto pubblico tra i quattro candidati alla carica di sindaco ciascuno di loro incalzato da Michela Di Gennaro ha illustrato la sua idea di agropoli le spiagge i trasporti la qualità dei servizi la lotta all'abusivismo approcci diversi stili diversi ricette diverse per lo sviluppo di quella che come ha illustrato Loredana Laureana presidente dell'associazione operatori turistici è la prima industria della città Elvira Serra si è appellata ad una totale discontinuità con il passato ripartire da zero è stato questo il suo mantra il mio gruppo parte con il motto città futura ed è anche la nostra lista a cui si associano tanti altri agropolesi giovani meno giovani ma tutti con una gran voglia di ricominciare il nostro progetto per questa città è ricominciare da zero assolutamente in totale discontinuità col passato recuperare diritti voglia di esserci voglia e dare coraggio alle imprese di rianimarsi immaginando che ogni cittadino possa diventare il primo cittadino per le proprie capacità per le competenze perché la mediocrità ha offeso questa terra la mediocrità di chi si propone raccontando in campagna elettorale che si può fare tutto e poi dopo non accade nulla solido massimo la porta sulla vicenda ospedale mentre meno convincenti sono sembrate le sue idee su scale mobili per salire al centro storico sul modello perugia e spoleto noi per rientrare come ospedale siamo entrati grazie a una norma che si usa nei comuni montani e sarebbe area disagiata questa norma la riprende sempre quel decreto ministeriale 2015 che non fa né la regione campania lo fa il governo centrale il ministero della salute in collaborazione con agenas che è la struttura di supporto del ministro della salute in questi mesi vi è anche una modifica dove personalmente con una mia conoscenza diretta sono riuscita ad incidere su quel parametro fondamentale prima dottoressa lei parlava 100.000 costa 500.000 noi purtroppo abbiamo un bacino di utenza dobbiamo raggiungere attualmente per quello che il decreto ministeriale 80.000 abitanti non ce la facciamo per quelli che sono i numeri paradossalmente noi grazie all'ospedale covid la struttura sta funzionando e non dobbiamo denigrare quello che sta avvenendo perché noi da quel punto qualsiasi sia di noi ad amministrare questa città dovrà incidere sulla direzione generale dell'asl saleno dove ci sono due miliardi di euro di bilancio ed agropoli deve avere l'ospedale deve avere il pronto soccorso un sindaco forte dovrà cercare di incidere su quella programmazione di ospedale aggregata all'ospedale dea di vallo affinché il pronto soccorso attivo si riattivi in tutte quelle funzioni più timido è apparso roberto mutali passi il candidato sponsorizzato da franco al fieri ha rivendicato la visione comprensoriale incentrata sul master plan per il turismo non convincendo del tutto però anche per il suo ruolo di assessore al bilancio uscente su temi delicati quali il piano commerciale la tassa di soggiorno è in realizzazione il master plan è stata finanziata e è approvato il progetto per quanto la realizzazione della pratella che attraverserà la piena del sere e in progetto la realizzazione della metropolitana leggera e poi è già stata finanziata la pista ciclabila sono tutti questi sono altri strumenti che permetteranno e agevoleranno l'afflusso dei turisti per raggiungere le nostre città la nostra città che assieme a quelle nostre limitrofe di capace che è salabato dovranno diventare le città capofila del comprensorio cilento perché io penso che noi dovremmo ragionare in comprensorio in modo di aria vasta quindi poi sicuramente dovremmo migliorare la vivibilità interna dovremmo migliorare l'area urbana e la manutenzione delle strade dovremmo dare maggiore sicurezza con il potenziamento dell'orario dei vigili che attualmente hanno limitazione di orario. Soluzioni concrete invece si diceva per Raffaele Pesce che ha proposto interventi dal basso ripartendo dall'ordinario e dalla qualità dei servizi per i cittadini prima e per i turisti poi. Tre punti fondamentali di una visione turistica non si può che partire per noi dalla vivibilità del paese prima per noi cittadini e poi come immagine che diamo ai turisti che si fermano come diceva e più delle volte per una sera probabilmente non restano la seconda sera perché non è vivibile della città. Altro punto, noi abbiamo la possibilità di un'offerta turistica completamente diversa e non utilizzata e quella archeologica è un punto di riferimento può essere l'area del Sauco, quello potrebbe essere un punto strategico come impostazione di rilancio turistico fondamentale quindi turismo archeologico, turismo ambientale sempre nell'area che fortunatamente perché le cose buone il comune le ha fatte, ne ha fatte tante negative, ha acquistato tutta quell'area e io do atto che è stata una cosa buona. Turismo delle imbarcazioni di porto e quindi un'opera strategica sul porto, di gestione del porto in modo diverso. È di certo solo il primo confronto di una campagna elettorale che si preannuncia aperta e avvincente. programmi, proposte, esperienza, legami politici sono tutti elementi che incideranno sulla scelta che i cittadini saranno chiamati a fare il prossimo 12 giugno.